E' stato presentato il 15 febbraio il volume Samburu con altri occhi a cura dell'associazione Impegnarsi Serve Onlus. All'incontro hanno partecipato le consigliere Rosa Anna Costa, Gianna Pentenero, padre Giordano Rigamonti, padre Stefano Camerlengo, Don Piero Gallo, Daniele e Laura Poretti. Lo stesso giorno si è svolta in biblioteca in via Confienza 14 la conferenza di Enzo Bottura del Museo Vorrei Volare di Mantova sul tema il volo dei quaderni di scuola.